E beh ragazzi ragazzi eccoci qua a ritrovarvi in un nuovo video Allora ragazzi io vi ricordo prima di iniziare andateci tutti a seguire sul canale di Twitch Questo qua è il nostro nome perchè ragazzi temiamo tutti i giorni E anche ragazzi si tiktok Giù, già sta ragazzi perchè Wayne Gate Ok ragazzi in questo video andremo a farvi vedere la collezione di Kevin Ragazzi la collezione di Pokemon che ultimamente sta spopolando con il video di Jake Paul E ragazzi abbiamo detto ma scialla fammi vedere la collezione di Jake Paul Ragazzi abbiamo un sacco di Pokemon da farvi vedere Queste sono solamente le Jumbo ragazzi Per chi non conosce le Jumbo sono le carte giganti dei Pokemon Wow wow davvero io e Kevin sono emozionato Davvero ipotecco casa per prendermi qualche Jumbo Allora chat adesso noi iniziamo a farvi vedere tutta la collezione delle carte Qua abbiamo preparato una piccola disposizione ve le faremo vedere da questa fotocamera Iniziamo Ok ragazzi adesso vi faremo vedere la nostra collezione di Pokemon Vi prometto che non è grandissima Però ci ne diamo tanto a farvela vedere Soprattutto ragazzi per chi è interessato Contrattateci in DM su Instagram Che se volete ve la possiamo vendere Come prima carta ragazzi troviamo una carta allenatore N Poi troviamo una trainer di Trainer's Mail Un'energia in colore doppia Una carta allenatore scambio E infine ragazzi un'energia curvatura Troviamo una Togekiss X E un Gardevoir X Magerna Magerna X Stilix X Schix Schix Schizor Schizor X Bronzong Break Solgaleo GX Gamshoch GX Pigeot X Mega Pigeot X Taurus GX Full Art ragazzi se non sbaglio si dice Raiquaza X Hydreigon X Dragonite X Giratina X Full Art Neuvern GX E Komo O GX Traniator X Darkrai X Sharpedo X Umbreon GX Mega Sharpedo X Darkrai GX Mook Dialoa GX Raiquaza X Amparos X Pikachu Chi non conosce Pikachu ragazzi Pika-chuuu Basta 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 Zegrom X Vikavolt GX Tapu Koko GX Tapu Koko GX W Alolan Golem GX Jolteon X E infine Mega Man Electric X Full Art Ragazzi non siamo molto bravi con i nomi e tutto Quindi ve lo promettiamo Se sbagliamo qualche pronuncia Non ci prendete in giro Non le conosciamo per niente i Pokemon Non ci giocano da circa 3 anni Però Volevo farvi vedere questa benedetta collezione che merita Dite qualcosa nei commenti Che non sia un insulto Kyurem X Swampert X Wishy Washy GX Nightless Nightless Dialoa GX Kyurem No Kyurem X Mega Swampert X Mega Slowbro X Mega Blastoise X Magikarp X Magikarp X Full Art Magikarp GX Mamma mia quanti Magikarp Marshadow GX Marshadow GX Likanronk GX Zygarde X Mega Lucario GX Likanrock GX Mega... eh no Magikarp GX Magikarp GX Full Art E Marshadow GX Kuppa X Alakazam X Necrozma... Necrozma... eh? Alakazam Necrozma GX Espeon GX Predasterie GX Mega Gallade X Mega Gardavoir X Mewtwo X Mega Mewtwo GX No, scusa Mewtwo GX E Mewtwo X Con... boh... La gang di dietro X Golisop 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 Golador Dai, muoviti Golisop GX Tapu Bulu GX Tapu Bulu Leafeon X Mega... 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 Mega Sheptil X Decidueye... Decidi tu Decidueye... GX Mega Venusaur X Lurantis GX Shimin X Dueye GX E Golisop GX Ragazzi, adesso andiamo con i tipi fuoco Che effetti speciali, cazzo Turtonatur GX Blaziken X Talonflame Break Mega Blaziken X Mega... C'è... No... Camerupt Ok Mega Camerupt X Camerupt X Inceneror... Inceneror GX Hoho GX Mega Hunter Room X Registrano Hoho GX Full Art Greve Charizard X Charizard X Con la gang di dietro Charizard... Charizard GX E Salazze GX Gotta catch em on Catch em on With the Pokemon Pokemon Gotta catch em on Catch em on Catch em on Live Pokemon 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 Catch em on Voglio andare dove mi va E non fermarmi qua Questo viaggio mi porterà Da tutti i Pokemon Giro vagando per il mondo La mia sfera lancerò Ed ogni Pokemon Così catturerò Oooo Viva i Pokemon Fasca e Pro-Rompente Tutti differenti Guarda Catch em on Catch em on Catch em on Ogni Pokemon è più scoppiettante Fulta che attivante Viva i Pokemon Pokemon Guarda Catch em on Catch em on Catch em on Pokemon Viva i Pokemon 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 Viva il Pokémon, basche e prorompente, tutti differenti, caracchiamo Ogni Pokémon è più scocchietante, furga cattivante, viva il Pokémon Solo io so che li catturerò, solo io so che poi ci riuscirò Qui nessuno c'è più in gamba di me, con la mia sfera a bocchè Viva il Pokémon, sempre più frittanti, magici e schargianti, guarda il Katchamon Tutti i Pokémon sono straordinari, mi dici a pensare, viva il Pokémon Guarda Katchamon Guarda Katchamon, Katchamon, ove Pokémon, Pokémon Guarda Katchamon, 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 i del Pokémon, Pokémon Voglio andare dove mi va, e non fermarmi qua Questo viaggio mi porterà, da tutti i Pokémon Girovagando per il mondo, la mia sfera lancerò Ed ogni Pokémon così catturerò Viva il Pokémon, basche e prorompente, tutti differenti, guarda il Katchamon Ogni Pokémon è più scocchietante, furga cattivante, viva il Pokémon Ragazzi, è successa una cosa, mentre stavamo registrando, abbiamo trovato questo Katchamon qua Per favore, chat, ci potete dire quanto costa, perché noi l'abbiamo cercato Abbiamo trovato dai 30 ai 400 euro, quindi niente Kevin, Kevin si è incantito a cercarlo Perché mi sembra strararo, e quindi chat, se qualcuno riesce a trovare questo tipo di Charizard qua Si chiama XY Evolution, tipo E ci dice più o meno quanto può costare, perché... Ok ragazzi, adesso vi faremo vedere le carte Jumbo Ma una cosa, un appello per tutti le persone che stanno guardando i video che si intendono di Pokémon Ragazzi, quel Charizard che vi abbiamo fatto vedere Sapete più o meno quanto costa, se vale qualcosa, o se è semplicemente una carta come tutte le altre Volevo solamente sapere, basta Adesso vi faremo vedere le carte Jumbo E ecco qua, iniziamo Katchamon, 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 Katchamon Voglio andare dove mi va, e non fermarmi qua Questo viaggio mi porterà, da tutti i Pokémon Giro vagando per il mondo La mia sfera lancerò Ed ogni Pokémon così catturerò Viva il Pokémon, basket prorompendo tutti i differenzi Ragazzi, per farvi capire quanto è grande una carta Cioè, è più grande della mia mano Non so se si vede Sì 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 si vede Mamma mia ragazzi Cioè, paragoniamola la faccia È grande? Sì Ok ragazzi, questo video è finito Spero che vi sia piaciuto Però ragazzi, non è tutto qua Perché, raga, Kevin ha una collezione davvero enorme su tutto Tappetini Carte stranissime Carte stranissime Monete Box Scatole Io vorrei soprattutto pure riprendere a collezionare i Pokémon No, no Hola, hola No, no Spendi un casino di notte Decidete voi qua sotto nei commenti Se volete un nuovo pack opening In live, un unboxing Un unboxing, pack opening, in live O per un video Ci starebbe Decidete voi qua sotto nei commenti Certo, un bel like Iscrivetevi E attivate la campanella Per questo video è tutto Noi ci vediamo al prossimo Bella Ciao